Hua Tuo, il medico cinese che 1800 anni fa usò l'anestesia. Forse il medico più famoso del suo tempo, Hua Tuo, visse in Cina durante la dinastia Han. Specializzato in erboristeria, agopuntura, ginecologia, Hua Tuo è passato alla storia come il primo medico cinese a eseguire una serie di interventi chirurgici indolori sui suoi pazienti, con l'aiuto di una misteriosa bevanda che fungeva da potente anestetico. Non c'è dubbio che gli antichi cinesi eccellessero in molte e varie discipline. Tra queste, ovviamente, figura una tra le più importanti per il futuro dell'umanità, ovvero la medicina. Così, uno dei medici più apprezzati di questa civiltà millenaria fu Hua Tuo, di cui purtroppo non si hanno molte notizie biografiche, e quelle che esistono sono piuttosto incerte. Gli studiosi collocano la vita di questo singolare personaggio in un arco cronologico molto ampio e impreciso, tra il 110 e il 265 d.C. Ciò significa che Hua Tuo sarebbe vissuto nel periodo storicamente compreso tra la fine della dinastia Han e l'inizio del periodo noto come Tre Regni. D'altra parte, alcuni biografi hanno datato la sua nascita al 145 d.C. e la sua morte al 208 d.C. Se fosse così, Hua Tuo sarebbe stato contemporaneo di un altro famoso medico e farmacologo di nome Zhang Zhongjing, pioniere nel trattamento delle cosiddette malattie da raffreddamento come il catarro e le infreddature. Ma perché quasi famoso e rinomato Hua Tuo? I testi storici contenuti nelle cronache dei Tre Regni e nel libro degli Han posteriori lo riconoscono come il primo medico cinese a utilizzare l'anestesia durante un intervento chirurgico. Hua Tuo avrebbe eseguito tre operazioni chirurgiche e due ginecologiche senza causare dolore ai suoi pazienti, utilizzando un anestetico che combinava il vino con una pozione a base di erba chiamata Mafeisan, che era una formula segreta che pare contenesse polvere di cannabis bollita. Ma Hua Tuo si distinse anche per altre abilità, come la pratica dell'agopuntura e dell'erboristeria, e gli venne attribuita la creazione di vari esercizi che combinano corpo e mente, nota come Daoyin o Quingong. La misteriosa origine di Hua Tuo. Anche il luogo di nascita di Hua Tuo è sconosciuto, ma secondo le stesse testimonianze storiche, era originario della contea di Quao, nell'attuale Bazu, nella provincia cinese di Hanhui, e aveva studiato i classici cinesi nella provincia di Xiu. La vocazione di Hua Tuo per la medicina risalirebbe alla sua giovinezza. Tuttavia, il giovane Hua avrebbe rifiutato lucrose offerte dell'amministrazione per lavorare come funzionario di alto livello, e un altro mistero che circonda la sua figura è l'origine del suo nome, dal momento che quello che conosciamo è soltanto il soprannome. Hua significa magnifico, Tuo significa gobbo, o letteralmente collina ripida, che è probabilmente un'allusione alla sua intelligenza più che al suo aspetto fisico. Ma ci sono anche storici che collegano il nome di Hua Tuo al termine sascrito Agada, che significa medicina, la cui pronuncia in cinese è Gavda Ta, suggerendo che Tuo potrebbe aver studiato le tecniche mediche della Yurveda, una pratica originaria dell'India, con i primi monaci puttisti giunti in Cina per praticare la loro religione. Tuttavia, le cronache dei tre regni collegano Hua Tuo alla pratica del Taoismo, che è una dottrina creata da Lao Tzu nel VI secolo a.C., che nel II secolo d.C. si sarebbe fusa con le dottrine classiche cinesi, le quali comprendevano la medicina tradizionale, la divinazione, la magia, l'alchimia, discipline che venivano combinate e applicate per curare le malattie. Tecniche rivoluzionarie La fama e la reputazione di Hua Tuo crebbero, perché era in grado di curare i suoi pazienti attraverso la farmacologia, l'agopuntura, e il cosiddetto Wu Quingsi, noto come il gioco dei cinque animali, che erano esercizi da lui stesso creati, ideati, che imitavano i movimenti degli animali, e si dice anche che usasse la psicologia. Tuo era un osservatore acuto, sapeva applicare rimedi diversi per sintomi simili, come nel caso del generale Li Teng, militare governatore di Guangling, che soffriva di forti dolori al petto e irritazione alla pelle. A quel punto, per curarlo Hua Tuo, gli diagnosticò dei parassiti allo stomaco, dovuto al consumo di pesce cruto, e preparò un decotto che permise a Li Teng di espellerli. Hua Tuo divenne così una celebrità, ma questa fama fu anche la sua rovina. Li Teng era così felice che raccontò la sua cura miracolosa a un signore della guerra di nome Cao Cao. Così Cao Cao mandò a chiamare il famoso medico per sbarazzarsi di forti mal di testa, che gli facevano venire anche le vertigini. Hua Tuo lo curò con l'agopuntura e riuscì finalmente a guarirlo. Cao Cao era così soddisfatto che gli propose di diventare il suo medico personale, ma Hua Tuo rifiutò, perché preferiva le sue conoscenze fossero distribuite a tutti. Quindi, per liberarsi da questa offerta indesiderata, il medico affermò che sua moglie era malata. In un primo momento, Cao Cao accettò, con rassegnazione la spiegazione di Hua Tuo, ma alla fine scoprì l'inganno e, furioso, ordinò di imprigionarlo e condannarlo a morte. Durante il suo cosiddetto soggiorno in prigione, Hua Tuo mise per iscritto tutte le conoscenze in un'opera intitolata Quing Nang Shu, Libro della Borsa Verde, ma il suo lavoro fu vano, perché Cao Cao ordinò di bruciare tutta la sua opera. Sarebbe stata una perdita irreparabile, perché al primo libro si aggiunse la scomparsa di altri quattro e con essi andranno perdute tutte le conoscenze, le tecniche e tutte le ricette che erano state accumulate per le diverse malattie. Le sue pratiche chirurgiche caddero in disuso, tranne per il suo metodo di castrazione che continuò ad essere usato, e a causa dei pregiudizi legati alla pratica chirurgica, la posizione sociale del chirurgo divenne sempre più bassa. E ciò rese un rilancio della chirurgia cinese semplicemente impossibile. Alcuni anni dopo la morte di Hua Tuo, i suoi discepoli come Wu, Ku e Fan Ahm cercarono di portare avanti la sua eredità, che sopravvisse grazie al fatto che entrambi riuscirono a guarire molte persone attraverso l'uso della gopuntura, con preparati a base di Quie, che è questo albero della lacca, e Quingian, che hanno grandi proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e analgesiche. Il ricordo della figura storica di Hua Tuo, si mescola una certa aura divina attribuita al personaggio, che col tempo si è finito per considerare Shen Yi, cioè sacro, e lo si nota dall'espressione Hua Tuo Daishi, che significa reincarnato, usata in Cina per indicare medici di livello più alto, con malabile Hua Tuo.